Sulla linea della prevenzione e del rigore, al fine di evitare quanto più possibili i contagi e al fine di limitare al massimo la mobilità in generale e fra i comuni, viene approvata oggi un'ordinanza firmata dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per stabilire da questo fine settimana controlli rigorosi nelle principali stazioni ferroviarie della Campania e dell'aeroporto di Capodichino, per un'operazione di prevenzione e monitoraggio che consenta anche individuare persone in movimento senza motivazioni o con sintomi. Si dispone ugualmente per il periodo estivo il divieto di spostamento nelle seconde case anche in ambito regionale. È indispensabile avere oggi rigore e senso di responsabilità per evitare situazioni drammatiche già dal mese di gennaio, ha detto il Presidente De Luca. Grazie.